Maurizio Sarri ha fatto un gesto davvero uomo. Dopo una serie di sconfitte consecutive, Sarri ha presentato le sue dimissioni come allenatore della Lazio. Con questo gesto, ha rinunciato a 3,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2025, uno stipendio davvero notevole. I tifosi hanno apprezzato molto questo gesto, vedendolo come un segno di rispetto e di grande umiltà, dato che non tutti avrebbero rinunciato a una cifra del genere. Tu cosa ne pensi?